Essendo un po' di parte, devo dire di essere condensatissimo di questo primo risultato, il nostro Simone ha vinto in maniera abbastanza convincente, onore all'avversario che è stato sicuramente il signor Randini, un applauso, ha dato veramente una bella partita, è stato un po' sforzato perché anche per lui ha trovato un avversario che in questo momento forse ha dimostrato, forse diciamo che sia una motivazione leggermente superiore anche se a voi non mancano mai le motivazioni per giocarvi nel finale, quindi il primo risultato, il primo incontro si è concluso sempre il S2 per Simone e adesso l'incontro prosegue con la seconda partita e tra quals'istante vedrà iniziare con gli scaldamenti Michele Portarelli e Claudio Messina, la nostra vecchia conoscenza. E niente, rifarei un applauso grande a Luca Randini perché ha sicuramente meritato, è cercato a vedere, deve essere comunque un signor giocatore e saremmo contenti di averlo con noi perché veramente è bravo, riconosciamolo. Un applauso lo facciamo ovviamente a Simone che incontro l'ha vinto e porta a casa il primo mondo per me. Tra un attimo rimarrà, dicevo prima, il cambio di scaldamento, poi a seguire, rispetto al primo abbiamo fatto un piccolo cambiamento di programma per consentire al pubblico di assistere interamente a tutti e due incontri. Quindi fra un po' vedremo la seconda partita e a termine di veta vediamo come procede la giornata, se il doppio sarà decisivo oppure no. Vediamo comunque un buon divertimento di noi a tutti e andiamo avanti con la manifestazione. Grazie.